Impresa nei guai per i fondi del PNRR, lo rivela la Guardia di Finanza che ha sequestrato preventivamente a una società del Gallaratese 25.000 euro, prima tranche dei 50.000 ottenuti nell'ambito dei finanziamenti europei. Tra i requisiti necessari per l'accesso ai fondi del piano c'è infatti la solidità dell'azienda che deve usare i contributi per investimenti specifici e transizione ecologica. Stando alle fiamme gialle, malgrado navigasse in cattive acque, l'impresa avrebbe presentato un bilancio non veritiero, omettendo una rilevante perdita d'esercizio. La titolare risulta indagata per indebita percezione di erogazioni pubbliche.